La situazione meteorologica sulla nostra regione, dopo una pausa di stabilità atmosferica della giornata di venerdì, vedrà ancora l'arrivo di un fronte atlantico che farà aumentare nuovamente l'instabilità per alcuni giorni. Allora ci aspettiamo per sabato nuvolosità variabile al mattino, possibile qualche locale rovescio temporale, nel pomeriggio peggioramento e specie verso sera rovesci temporali diffusi, qualche temporale. Potrà essere anche di forte intensità con piogge localmente molto intense, specialmente sulla pianura orientale. Soffierà scirocco in genere moderato sulla costa. Temperature tra 15 e 25 gradi in pianura, tra 19 e 23 lungo la costa. Nelle prime ore di domenica avremo ancora rovesci temporali sulla regione, dopodiché nel corso della mattinata si faranno attenzioni le precipitazioni, in giornata variabilità, anche se sarà comunque possibile un po' di instabilità con qualche locale rovescio temporalesco ulteriore. Temperature tra 16 e 25 gradi in pianura, tra 19 e 23 lungo la costa. I venti rimangono prevalentemente deboli di direzione variabile. Tempo instabile anche ai primi giorni della prossima settimana, ancora con nuvolosità variabile, la possibilità di rovesci o temporali sparsi. Per l'osservatorio metodo dell'ARPA, Arturo Pocillo vi saluta.